Un progetto destinato a movimentare oltre 900.000 tonnellate di merci l'anno. Un'opera da 29 milioni di euro che potrebbe cambiare realmente il volto delle aziende sannite riguardo al mercato. Non c'è tempo da perdere per la creazione dello scalo merci Benavento Paduli in zona Asia, Ponte Valentino. Dopo la presentazione di un primo documento di fattibilità, l'impegno è tradurre il più velocemente possibile in realtà l'idea e invita proprio a non accumulare altri ritardi il numero uno degli industriali sanniti, Oreste Vigorito. Abbiamo una carenza su un'autostrada che passa a 28 km da Benevento, abbiamo le ferrovie che fino ad oggi hanno svolto il lavoro che potevano svolgere ma è inammissibile che per andare in capoluogo per Napoli ci vogliono due ore, due ore e mezza quando il treno della Speranza, quello che chiamo io, parte. Questo potrebbe essere uno snudo per sollevare un po' le imprese perché si sa che i costi su ferro costano molto meno. Con la crisi attuale non ne parliamo proprio di quelli su copi. E soprattutto l'importante è che si crei un movimento che dovrebbe attirare anche altri investitori. Il progetto dovrebbe riconvertire l'ex capannone Intermod già utilizzato come hub vaccinale proprio dal mondo delle imprese che sarebbe raggiungibile grazie ad un sistema di navette, previsti anche interventi sulla statale 90 bis ed una pista ciclabile. Il progetto esecutivo potrebbe essere pronto entro dicembre come anticipato dal presidente dell'Asi Luigi Barone.